Le nostre scuole devono essere più sicure. Dopo gli ultimi atti vandalici, il sindaco di Trani Luigi Riserbato chiede al prefetto della BAT Carlo Sessa di intervenire con la presenza di maggiori controlli e anche con l'utilizzo di militari, soprattutto nelle ore serali, anche durante la stagione estiva. L'amministrazione comunale, fa sapere Riserbato, non può disporre di fondi economici tali da garantire un presidio fisso di vigilanza notturna, ma può effettuare solo controlli saltuari che si stanno rivelando inutili. Non solo, Riserbato ha anche evidenziato il dispenglio di risorse economiche che il Comune sta sostenendo per la manutenzione degli istituti dopo gli atti vandalici. Il primo cittadino, oltre a chiedere aiuto al prefetto, ha anche iscritto al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al quale chiede una maggiore attenzione nella composizione delle classi. Alcuni ragazzi della scuola media avrebbero creato non pochi problemi durante e fuori dalle lezioni. Lo stesso dirigente scolastico dell'Istituto Bovio aveva espresso la richiesta di installare telecamere per la videosorveglianza.